Con John Palmer ci avevamo dei valori molto più alti, ha tenuto bene il campo, ha luttato, si è santificata. Penso che quello che volevo tenere la mia squadra l'ho tenuto, ma dopo certi episodi ci sono stati, diciamo, rispavorevoli, ma purtroppo è successo contro di noi, speriamo che la prossima volta abbia il giusto. Però sono contento, perché la squadra è venuta qua, ha un po' di personalità, ha tenuto bene il campo e alla fine secondo me non ha avuto avuto. Come sta? Ma adesso si è ripreso un po', però se ne ha la capacità di conoscenza, sembra che non sia tutto. Mi ha avuto una bella botta in tempo. Uwe, soddisfatto della partita? Io della partita sono più che soddisfatto. Non sono soddisfatto del risultato, perché penso che vedessi sfumare proprio alla fine questo risultato, che per noi, per la nostra realtà, sarebbe stata una cosa importantissima. Non ho manno, non ho manno, non ho manno, non ho manno. Non ho manno, non ho manno. Beh, a manno è l'anchilo, come è stata in campo con i ragazzi, tu che sei quello più d'esperienza, insomma, per loro oggi giocare davanti ai 10.000 spettatori era una cosa, insomma. Infatti, l'ultima volta che sono venuto qua, abbiamo perso una zaino, si arrivi col mantolo, però non ho contestato, era il 2010, gol di Leone, lo ricordo ancora. E oggi sono ritornato, adesso non so, come dice, fuori gioco, non fuori gioco, dove il Panno, non so, per me è un po' di là, però è un peccato, cioè è una bella vetrina per tanti giovani della nostra squadra, dispiace, perché comunque, sì, il Panno ha avuto il Panno del giorno in tutta la partita, quasi tutta la partita, ma anche penso che sia anche normale così, però il Villafranca ha fatto la sua partita, che doveva fare, combattuto, sacrificio, volontà, concentrati, se portavamo via il punto, penso che non c'era niente a dire, anche perché occasioni clamorose, da parte del Parma, sì, per il dominio territoriale, qualche cosa, qualche... però non dispiace, perché prendere gol così alla fine è proprio che pareggiava, perché all'ultimo secondo non c'è stata la parola del suo portiere. Mister, buonasera, volevo sapere se questo atteggiamento guardingo era più figlio delle cinque reti prese domenica, o di avere di fronte comunque una squadra con giocatori di carattura importante? Ma è un atteggiamento realistico, diciamo, nel senso che sapevamo i valori di questa squadra a livello individuale e anche con organizzazione, è chiaro che noi non potevamo farlo in tutto campo, oppure alzare troppo il nostro calicentro e rimanere magari uno contro uno nelle zone difensive, perché loro hanno degli attacchi anche molto gravi, veloci, tecnicamente gravi, per cui diciamo che questo atteggiamento era dovuto anche un attimino per cercare di non lasciare troppi spazi, di loro stare controllati troppo su altri, piacerebbe anche a me giocare con 5-6 punti, se l'ho fatto una punta buona vita, devo farla in attore, la mia realtà è questa qua, però al di là di quello io penso che i ragazzi in verità non veramente un incovo, una lode per come sono vattuti, ma anche per l'organizzazione dimostrata, poi dopo nel calcio gli episodi alle volte determinano il risultato. Onore al parma, però penso onore anche a Villa Franca. A Spinali volevo chiedere invece cosa recriminate di più sull'arbitragio, il fallo da rigore o il fuorigioco sulla rifattuta del vostro portiere e soprattutto magari cosa vi ha detto l'assistente quando siete andati a circondare? Un po' tutti e due forse, vorrei rivederli tutti e due, sinceramente è una catena, non so se il rigore c'era, sinceramente, poi adesso io non so se fuorigioco quello avete rivisto se è regolare il gol o non può regolare. Calcia in corsa, quindi si presuppone che venga dietro e dietro? Allora magari non so. Si presuppone, perché poi le immagini non è che chiariscono. Non sono chiarissime, ma forse anche il rigore, perché va bene, comunque, no, dispiace, comunque perché, ripeto, sapevamo di affrontare una squadra tutta nuova, forse è meglio affrontare all'inizio che dopo, perché magari più passano le partite, più giocando insieme, essendo tanto gioco storico in modo, l'affiatamento, il sistema di gioco dell'allenatore e tutto, dispiace, perché secondo me permettavamo il pareggio, perché domenica abbiamo fatto male e oggi bisogna dire che comunque se uscivamo con un punto non c'è niente da dire. Mister, a voi? Sono qua. Dove? A voi non interessa molto perché quello che vi preme è che siete a zero punti, però domenica avete giocato col Forlì, siete perso, oggi avete giocato col Parma, sinceramente si spogli proprio perché dagli abiti di essere ospite del Parma adesso, chi ha visto meglio per questo anno? Ma secondo me il Parma è ancora in una fase di riluzione, perché ha tanti giocatori nuovi quindi deve trovare ancora un certo rossetto. Il Forlì ha anche lui dei valori importanti, soprattutto davanti ma anche a centro campo, per cui secondo me si equivalgono un attimino con i valori. Tra l'altro il Forlì, almeno con tutti noi, ha giocato con un 4-3-3 molto offensivo e ci ha messo in grossa difficoltà soprattutto sugli esterni. Il Parma ha lo stesso altri giocatori davanti che se li lasci liberi un attimino fanno male, in più ai giocatori di esperienza, ai giocatori di personalità come il capitano, come anche l'altro difensore che ha detto il campionato di polimica, cioè per cui io credo che sarà una valla battaglia, ma io penso, almeno mi auguro, così tiro via una targhetta della prima che ripescono il Forlì, che si era fatto ricorso, ripescono il Forlì così cancelliamo della partita e il Parma si ritrova magari un avversario in meno. Allora io vi saluto, vi auguro buon lavoro e buona settimana. Grazie. Senti Gigi, partita dura, partita di Serie D, cosa ti ha detto? Questa vittoria è molto sofferta. Se saranno tutte fatte così, sicuramente. Sono contento, sono felice per com'è andata, perché proprio ci ha messo di fronte a quella che è la realtà, già l'abbiamo visto un po' le da Ziniano, oggi ancora di più. dopo un primo tempo non giocato benissimo, abbiamo ripresa anche se abbiamo cercato attraverso la manovra di aggirarli, perché loro chiaramente subito dopo il vantaggio si sono chiusi e cercavano queste palle lunghe di ripartire. La cosa che mi è piaciuta è che comunque la squadra non ha mai perso la testa, ha cercato sempre comunque di giocare, ha cercato di costruire, forse come nel primo tempo abbiamo girato palla non velocemente, molto rettamente, permettavamo a loro di sistemarsi e quindi di riuscire anche in alcuni momenti di prendere delle ripartenze. Lì dobbiamo essere più bravi e più ordinati nel mantenersi molto, soprattutto che non è interessata l'azione di scivolare, di cercare di non far prendere queste ripartenze che in alcuni momenti ci hanno disturbato, ecco, anche se poi i grossi pericoli non ne abbiamo credo ne hanno creati, però questa è la realtà della Serie D e questo mi fa piacere proprio di averla vinta, nella seconda parte invece si è stati bravi perché abbiamo cercato di costruire il gioco, abbiamo continuato a costruire il gioco pur avendo un avversario che pensava quasi sempre a chiudersi di ripartire o faceva pure le giocate alte su questo centroavanti che cercava di far salire la squadra. Senti, faccio l'ultima domanda da parte mia. Prima Frutti hanno chiesto un confronto tra Fornì e Parma, due squadre importanti di questo giro e parlando di Parma ha detto che è ancora una squadra in evoluzione, una squadra che ancora è presto da giuricare, sei d'accordo con questo design? È chiaro che la nostra squadra è in evoluzione perché comunque mancano ancora dei giocatori tra virgolette importanti perché Miglietta, Barai e Musetti, comunque all'interno della squadra sono giocatori importanti. Però ritengo che questa di oggi sia stata una prova importante proprio per i giocatori che comunque sta cercando di dire la loro, è rientrato dopo un po' di tempo, ha fatto secondo me una gran partita e ha fatto un gran gol a Romo Bardi. Si è sacrificato, ha lottato, ha anche sbagliato, però non ha mai mollato. Come lui anche tanti altri. Quindi sì, siamo in evoluzione, siamo in crescita e ci sono ancora dei margini di miglioramento, soprattutto nel diventare più cinici e nel diventare più padroni di quello che è il valore di essere più bravi nel giocare la palla. Buongiorno, due domande. Le unisco, due domande. La prima, se forse di tutto quello che si è detto prima dell'inizio della stagione, partite come queste dimostrano che la parola fondamentale è proprio la pazienza, che Nebioscala chiede ai tifosi, ma credo che è quella che deve avere il Parma di fronte a partite come queste, dove magari ci si mette, insomma non si vincono subito, anzi ci sono degli ostacoli, ma con molta pazienza il Parma è riuscito comunque a vincere. La seconda, se una piccola svolta sia stata nel secondo tempo quando i terzini sono riusciti ad arrivare sul fondo a crossare, quando magari nel primo tempo si fermavano sempre sulle altre quarti. Non so se magari c'è stato qualcosa in intervallo, ci ha chiesto appunto da Donni e Ricci di andare sul fondo e puntare dopo. Per quanto riguarda la prima, sì, c'è una pazienza perché chiaramente le partite, e questa è una squadra che di pazienza ne ha, nel senso che ha già fatto vedere, parlo nelle pre-partite dell'inizio del campionato, che attraverso il gioco si può arrivare a valorizzare quelle che sono le caratteristiche di alcuni giocatori. Per quanto riguarda l'altra domanda, scusa, il cross sul fondo. Ah, ecco, beh, la squadra l'aveva impostata proprio in questa maniera, in questa maniera qui perché chiaramente lo giocando in quel modulo, noi abbiamo seguito la numerica sulle fasce, ho cercato dopo attraverso gli inserimenti dei terzini con delle sovrapposizioni, con degli inserimenti degli esterni, di mettere balle dentro, poi è nata una, c'è anche l'avversario, c'è anche l'avversario, probabilmente in alcuni momenti perché eravamo frettolosi o perché avevamo di fronte l'avversario che chiaramente non tirava gli spazi e ripeto, probabilmente il fatto di non aver già tovelocemente la palla che non ci ha permesso di arrivare sul fondo come poi abbiamo fatto nella seconda parte. Gigi, c'è il rischio che qualche piccolo dubbio sul modulo ti sia venuto dopo questa partita? Dubbio, anzi oggi certezze, perché? Perché la squadra ha dato un modo nella seconda parte di capire e ha capito che attraverso la manovra velocizzata e non quella del primo tempo, che in alcuni momenti eravamo lenti, attraverso la manovra velocizzata puoi creare risupposti per creare difficoltà. Probabilmente anche nella prima parte abbiamo cercato di andare sulle fasce ma non convinti, probabilmente non trovando proprio gli spazi perché erano chiusi col fatto che la palla non girava per il cemento. Ma io per quanto riguarda il modulo non ha nessun problema, nel senso che poi secondo me il modulo è stato attuato nella giusta maniera, ripeto, dobbiamo migliorare perché chiaramente nel primo tempo che ha fatto delle buone cose, il primo tempo ci deve insegnare. Ci dici in questa squadra chi è l'alternativa a Sereni che è un under e che così come andava bene nelle amichevoli, insomma non è che in queste due partite di campionato, a essere buoni diciamo che ha deluso, chi era l'alternativa a Sereni? No, io non sono d'accordo con te, per me Marcello a tutto venire scorsa è riuscito a prendere un rigore, quindi fa un gran lavoro, si sta adattando a un ruolo, si sta adattando a una categoria chiaramente visto che è un giovane, le alternative stiamo cercando, abbiamo Traigo, abbiamo Musabala che dobbiamo ancora tesserare perché ci sono dei problemi collocratici, abbiamo un giovane secondo me molto interessante che è Molinaro che è entrato a far parte di noi anche se poi chiaramente è un giovane, le alternative ci sono, non mi preoccupa questo, anzi ripeto, per me Sereni sta facendo, ha fatto due buonissime gare, può fare meglio, però è un giocatore di qualità e sono convinto che venneranno fuori. Gigi, ciao, sono qua. Merito di tutta la squadra ovviamente, merito soprattutto, e queste due partite l'hanno dimostrato, di calarsi velocemente nella realtà della Serie D, diamo qualche merito però anche a Zomers perché oggi forse ancora più di tutte le amichevoli della partita di Domenica ha avuto modo di dimostrare che avete fatto bene a credere di lui, con quella partita, con quella parata all'ultimo secolo. Un giocatore come lui Sereni, come la vindi, ha fatto, Zomers sta facendo delle ottime cose e ha fatto con noi, quindi merito anche a Zomers, merito di tutta la squadra, se sei riusciti a vincere una partita come questa, chiaramente con tutte le difficoltà che ci sono state, la squadra, ripeto, in toto si è calata e quindi va a merito alla squadra che si è così, ha cominciato a credere nella realtà di quello che è il campionato di Serie D. Stai puntando meno male sulla stessa ossatura, però mercoledì c'è un turno infrasettimanale, ci sarà un po' di turno da? Probabilmente sì, anche perché oggi mi ha speso, mi ha speso tanto e quindi qualcuno probabilmente riposerà, adesso faremo con lo staff, faremo un po' di revalutazioni, però sicuramente qualcuno ci libera. Che programma fai? Ci alleniamo domani mattina e poi riprendiamo martedì poveriggio e partiamo per Barberino, che sarà un po' di sbagliato, non so, sarà un po' di sbagliato, non so, sarà un po' di sbagliato. Io sono stato felice di aver partecipato, anzi mi sono esaltato, con i cori, ecco, io penso che anche la squadra ha vissuto appieno quello che è stata la realtà dell'Ultra. Io penso che abbiamo condiviso con loro un percorso, ma è un percorso molto importante, al di là del simbolo che può valere. Poi i ragazzi hanno sentito la pelle, non soltanto quello che chiama sulla pelle, e soprattutto con il cuore quello che vuole questa gente. Grazie, grazie per il suo collaborio, per seguire. Ciao, come faccio? Ne parlavamo il giorno del tuo compleanno, però dopo la presentazione volevi regalarti un gol la settimana scorsa, quest'anno ce l'hai fatta, ma che fatica, nel senso che... Prima il partire, insomma, ci descrive un po' anche la gioia. Sì, è stato, intanto, è stato, beh, per me è un gol che mi ha sbloccato, soprattutto ha sbloccato la squadra, e oggi è stata veramente una partita dura, ce l'aspettavamo, abbiamo visto, sapevamo che venivano qui a chiudersi, e sapevamo delle difficoltà, che il primo tempo ne abbiamo incontrati veramente tanto. Per fortuna che siamo andati a riposto sull'1-1, e questo è stato fondamentale. Quanto, aspettando il miglior Musetti, che sicuramente potrà farsi valere quando tornerà in campo, quanto vi ha aiutato la prestazione di oggi di Longobardi, anche magari nel tornare indietro e recuperare il pallone, fare tanto lavoro sporco, anche per voi tre che normalmente agite dietro, e delle volte eravate davanti a lui. Pochissimo. No, vabbè, la parte che lascio già a Giambo, è un attaccante che per noi è importante, perché fa la sponda, crea gli spazi, c'è la squadra, così come ha fatto anche Riccardo, che io conoscevo, con caratteristiche diverse, però si sta adattando molto molto bene al ruolo di prima punta, e penso che siamo completi, siamo completi sotto questo punto di vista, abbiamo due prime punte, che tra l'altro possono essere anche benissimo insieme, e soprattutto la cosa principale è che sia loro che noi ci sacrificiamo molto, e quindi questo aiuta la squadra a rimanere, alle volte è corta, anche se adesso con la condizione fisica non ottimale, spesso ci allunghiamo un pochino, però avere degli attaccanti, soprattutto l'Ongo, che lo conosco da un po' di tempo, che è il primo difensore che per noi ci aiuta. Grazie. Ciao. Raccontaci le sensazioni di una giornata molto particolare, magari qualcuno di voi, forse la maggior parte, non ha mai vissuto un corteo di questo tipo con i tifosi, e i bambini non hanno, non dico voi più esperti, ma magari i più giovani, non hanno mai giocato davanti a una cuba del genere. Beh, le sensazioni, dico la verità, dal primo giorno sono bellissime, dal primo giorno che abbiamo messo piede qui, perché anche se abbiamo fatto partite con gente allo stadio, io personalmente l'ho avuta sempre contro, quindi noi fatti con un po' di gente allo stadio, ma l'ho avuta sempre contro, avere lì a favore è bellissimo. E per quanto mi riguarda, ma penso soprattutto anche per quanto riguarda la squadra, dal primo giorno che abbiamo messo piede a collegchio, abbiamo avuto tutti delle sensazioni bellissime, e non nascondiamo che qui c'è tutto, peggio che nel calcio, basta. è una struttura da Serie A, è una società da Serie A, è un tifo da Serie A, ma la cosa fondamentale è che noi ci siamo saputi parlare nella Serie D, che quello è l'aspetto principale, perché il nome è lo stadio, il centro sportivo, la gente soprattutto, è da Serie A, e ci sta trasmettendo delle sensazioni bellissime, perché non è da tutti, anzi, da nessuno, nemmeno in C, e avere un corteo che ti accompagna allo stadio, con dei cori, a me personalmente mi sono venuti anche qui, e quindi le sensazioni sono stupende, ci stiamo godendo tutti questo momento, ci stiamo mettendo tutti l'anima per cercare di portare quanto prima a fare manovamente. Il Villa Franca ha protestato molto sul tuo gol, anche lì che sensazione hai avuto, visto che hai dato un'occhiata, quando hai preso il pallone, hai dato un'occhiata all'assistente per capire se... Stavo pensando a quello di sbagliato che avevo fatto, però, quando ho visto che la palla è entrata, ho dato un'occhiata, e ho visto che l'abbito è andata a 100 grammi, ho detto, ecco, ce l'ho fatto. Con questo look, sono qua, di qua, l'altra parte, ecco, con questo look di profilo, rimettiti di profilo, l'orecchino, c'hai perfino la cadenza, mi senti casato? No! No, ti giuro! È un piacere, è un piacere, è un piacere. Siete a posto? La domanda è per la... Vice Cassano? Vice Cassano, adesso... Quanti nomi è da messi a Cassano? Va bene. Vasta l'ultima volta. Sì. Secondo... Non dirai certo di no, però, a Polloni si è detto convinto che non ha dubbi sul modulo. Io qualche perplessità, che sia stato un po' bugiardello, e ce l'ho. Qui si tomò il modulo del parco. Qualcuno dovrebbe dire? Tu quella perissi? Beh, io parlo, per caratteristica mia, è un modulo che ho sempre fatto. La maggior parte degli anni ho giocato così, l'anno scorso, che è stato l'anno mio più prolifico, ho giocato in quella posizione. E in questo momento, penso che il Misa abbia fatto delle valutazioni in base agli uomini, anche a disposizione, e soprattutto a chi sta bene fisicamente, perché abbiamo fuori, fino ad adesso avevamo fuori Longo, poi è stato fuori Musetti, oggi, poi abbiamo fuori Baraglie, comunque c'è della gente fuori, quindi magari possiamo diventare una squadra che può cambiare modulo in corsa, come il mister potrà fare delle altre valutazioni. Da quello che penso io, che ci ha trasmesso in queste settimane il mister, sia nell'amichevole, ma soprattutto in allenamento, e che ha lavorato su questo modulo, perché secondo lui, le caratteristiche in questo momento della nostra squadra, portano a questo modulo. Però nel calcio è bello anche cambiare, e soprattutto cambiare, per mettere in difficoltà l'avversario. E abbiamo dei giocatori, che possono cambiare anche, a partita in corso, soprattutto al modulo. Ok? C'è ancora una cosa che abbiamo avvito. Una squadra, del Tarro Vigo, ha perso le prime due giornate, il segno davvero, quindi questa serie di, non ci sono fatte scontate, e bisogna calarsi a mentalità, come avete fatto voi. Eh sì, bisogna assolutamente calarsi, anche perché, io questo giro ne l'ho fatto l'anno scorso, e dalle squadre che ho visto, è cambiato un pochino, ma è più duro, perché c'è San Marlino, c'è Forlì, abbiamo visto lo stesso Villa Franca, che ha preso cinque gol, e Forlì sembrava dovesse venire qua, una squadra, passata in termini di cadaveri, e invece si sono sistemati in campo benissimo, hanno fatto una fase difensiva ottima, e sono tutte squadre che, almeno difensivamente, hanno tutti delle qualità, soprattutto quando vengono qui a Tardini, che è anche difficile sbagliare qualche rilancio, quel terreno di gioco, quindi non si può nemmeno sperare che uno sbaglia, e quindi hanno tutte, hanno tutte almeno difensivamente delle qualità, e poi ci sono quelle 4-5, dove hanno qualità anche in termini d'attacco, e di cento grammi, però la mentalità in questa Serie D è fondamentale, non smetterò mai di dirlo, perché è così, perché vincere la Serie D deve arrivare assolutamente primo, non ci sono uno stomotaggio, quindi arrivare primo non è facile in nessuna categoria, in questa Serie D se ti chiami Parma, che tutti fanno la partita della vita, diventa ancora più dura. la percentuale di rendimento di non bombardi qual è a fine partita? Percentuale di rendimento, se vuoi sapere a che punto di condizione sono, questo forse bisogna chiederlo allo staff tecnico, insomma allo staff medico, secondo te? Io tra l'altro ringrazio, perché pensare di fare 90 minuti oggi, è stato un piccolo capolavoro secondo me, quindi devo ringraziare lo staff medico, lo staff sanitario, lo staff tecnico, io sono a un punto in cui sofferisco, con la grande voglia, a quello che mi manca dal punto di vista della condizione, alibi non me ne piacciono, cerco di fare il meglio, insomma per la squadra, cerco di dare il mio contributo. Abbiamo capito che basta, quindi se basta e hai fatto gol, noi siamo contenti. È chiaro che bisogna lavorare, io come tutta la squadra, dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare tanto, però siamo preparati a questo, il lavoro è l'unica cosa che non ci sta a me. Secondo te il Parma potrebbe, ha bisogno, ci può stare un altro attaccante? No, ma a me non mi interessano questi discorsi, se arrivano altri giocatori sono i benvenuti, purché abbiano lo spirito di calarsi in quello che è l'obiettivo di quest'anno, insomma l'obiettivo più grande di tutti noi, quindi se arrivano i giocatori a darci una mano, più benvengono, l'importante è che abbiano mentalità da Parma, da una squadra che dovrà adottare fino alla fine per conquistare un obiettivo importante. Sono buono. Non so se è un disamino corretto, però la squadra ha cominciato a girare meglio quando Longobardi ha capito che doveva retrocedere un attimo per recuperare i palloni, perché là davanti in mezzo ai cinque avversari diventare veramente difficile di toccarlo. Ma sì, è chiaro che in campo si fanno delle letture, in determinati momenti della partita. Io non so, magari c'è l'esperienza che ti porta a leggere le situazioni in un determinato modo. Io credo che la squadra abbia fatto bene oggi, penso che siamo stati in amico al campo avversario per almeno 80 minuti su 90, quindi è chiaro che quando gli altri sono tutti dietro e fanno densità non è facile trovare spazi, certe volte magari bisogna andare a cercare anche un po' più indietro, però, ripeto, ci vuole pazienza, ci vuole sapere aspettare il momento giusto. Questo è un pubblico abituato alla Serie A, però commento al tuo gol, è stato questo è un gol da bomber vero, taglioci un primo palo e pallone dall'altra parte. Mi è piaciuto anche a me il gol. Sono complimento perché ora non potrei arrivare. No, ma soprattutto a me piacciono i gol che regalano tre punti, quindi io credo che la gente sia capendo quello che stiamo facendo, al di là dei punti, al di là di quello che si può dire a livello mediatico. Io credo che la gente abbia capito che qua non ci sono i fenomeni, la categoria è questa qui, noi facciamo però del nostro meglio per cercare di portare a casa un obiettivo che tanto sarà a maggio, adesso chiaramente importante, però è lunga la strada. L'arbitro probabilmente non ha capito che quello era l'urlo liberatorio sotto un foro, dopo un'operazione, primo gol con la maglia crociata, evidentemente non ha capito. Bisognava spiegarlo. Mi dispiace perché insomma bisogna essere attenti anche a quelle cose lì perché poi nel corso del campionato pesano oggi era difficile trattenersi, ecco. Era difficile trattenersi. L'ultima per me. Ci sono segreti, perché queste sono le squadre che verranno al Tardini, no? Si chiudono dietro, provano a ripartire, magari non tutte, però la maggior parte. C'è un segreto per cercare di scardinarle, lavorare meglio sugli esterni? Cioè, dovrete valutare anche questo? Fortunatamente, insomma, dal punto di vista tattico sono problemi del mister, e quindi ci pensare a lui. È chiaro che noi dobbiamo far meglio, dobbiamo far meglio nella circolazione della palla. Si può fare in maniera più veloce, insomma, per cercare di muovere gli avversari in maniera più veloce, cercando di trovare gli spazi. Non è semplice, perché voi avete visto la densità che gli avversari fanno nel lavoro metà campo, però in qualche modo, insomma, bisogna cercare di agirare anche questo aspetto tattico. A Sestri è quasi vinto un campionato. Cosa c'è in più a Parma e cosa manca? È chiaro che parliamo di due realtà diverse, anche se, insomma, io a Sestri, insomma, è stata una famiglia, eravamo una famiglia, eravamo una famiglia, noi giocatori, con il pubblico, si è instaurato subito qualcosa, sono quelle alchimie che si creano, perché la gente magari vede che te in campo dai tutto e quindi, ripeto, parliamo di realtà diverse, qui, secondo me, a Parma, insomma, si è abituati ad altre categorie, altri parcoscenici. campionato in effetti io lo reputo vinto, perché voi, a tutti gli effetti, il Sestri sarebbe dovuto essere in C quest'anno. Ripeto, sono alchimie che non sono semplici da creare, però io credo che noi siamo sulla buona strada. Ciao, Cristian. Prima hai detto che... Ti ho anticipato? No, no, no. Prima hai detto che con la voglia cerchi di sopperire a quello che magari può mancare dal punto di vista della condizione. La sensazione, guardandoti oggi, è che con la voglia riesci anche a superire a quella che può essere la paura dopo l'infortunio di un certo tipo, perché non hai tirato indietro la lamba praticamente mai e non è una cosa scontata per un giocatore che è stato operato al Minifo pochi giorni fa, cioè pochi giorni, pochi settimane fa. Ripeto, da quel punto di vista insomma, abbiamo uno staff che è veramente di un'altra categoria. Io dico sempre finora quelli che hanno dimostrato di essere di un'altra categoria sono i tifosi e a mio modo di vedere anche lo staff medico e sanitario perché ripeto, pensare di fare 90 minuti per me oggi è un piccolo capolavoro. È chiaro che io poi una volta in campo insomma ma all'infortunio non ho pensato più. Ci racconti un attimo prova. Diciamo, fai finta che qualcuno non ha visto la partita o non ha visto il tuo o non ha visto la tua risultanza e glielo devi raccontare. Come lo decida? Mi fai fare il cronista, non è un mistiere mio. Intanto diciamo che sono molto contento dell'assist per Fabio perché in quel momento lì era una situazione che è pensata molto sulla partita insomma pareggiare la prima della fine del primo tempo e per quanto riguarda il mio gol era da un po' che in testa mi dicevo insomma che bisognava aspettare il momento giusto che sarebbe arrivato e in effetti poi su quella palla messa molto bene dentro da Giacomo Ricci mi sono avventato col tempo giusto e fortunatamente l'ho toccata quel tanto che è bastato. Grazie. Chiudiamo per quello che mi riguarda almeno con un gossip. Il Longobardi è stato un giocatore fortissimo e voluto da Piacenza. All'ultimo momento è saltata dicono le voci le mali lingue che non sia tanto per l'infortunio e questo te lo auguriamo perché sei sembrato adesso sulla via del recupero quanto per un aspetto economico. Non è che sei stato fuori due o tre mesi come si doveva come si pensava. Non c'è niente di male neanche se se uno dice che è saltato l'accordo economico all'ultimo momento volevamo solo la tua versione. Io sono un abituato a guardare sempre avanti e ripeto come ho già avuto modo di dire nel momento stesso in cui mi si è chiusa quella porta ero sicuro che si sarebbe aperta una porta ancora più bella è stato così è stato così non è stata una questione monoma. Cristian stavi saluto un mese fa debutto al Tardini assist e gol cosa avresti pensato mentre recuperavi dall'infortunio quanto ci hai messo del tuo per arrivare così presentati così davanti ai tuoi nuovi tifosi? È chiaro che io mentre lavoravo avevo in testa insomma debito di questo genere speravo di soffrire un po' meno però è chiaro che ti poni un obiettivo per me già essere in panchina domenica scorsa insieme ai compagni di squadra è stato un grande un grande regalo e oggi addirittura fare 90 minuti secondo me abbiamo fatto un buon lavoro e ripeto devo ringraziare i medici i dottori Paolo Cristian insomma i preparatori che mi hanno curato nei minimi dettagli Città posto ragazzi grazie bene grazie mille grazie